no che c'era oh che c'è fatto? che c'era Sì, non è vero. eccolo che c'è? che c'è? vuoi entrare? si ecco qua non sa Giovanna non dobbiamo arrivare andiamo andiamo è pronto oh dio mamma mia oh that's my 8 chiesanina Alberto Angela su rilogesso alberto Angela su alberto